Un processo più snello e di conseguenza più breve, ma anche il più peso politico per gli stati membri nelle trattative per l'adesione di nuovi paesi all'Unione Europea. Sono le novità principali della riforma del processo di allargamento presentata questo mercoledì dal commissario Oliver Varelli. A spingere per la riforma è soprattutto la Francia, che qualche mese fa aveva bloccato l'avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. Penso che con le nuove regole sia possibile aprire una trattativa, ha detto Varelli. Stiamo lavorando per questo motivo, c'è molto da fare, ma è stato un passo importante per rilanciare l'intero processo. Vorrei convincere tutti che questo è un processo positivo e che l'Europa ne ha bisogno. Con il metodo attuale i paesi candidati devono negoziare 35 capitoli giuridici e politici prima di poter diventare un membro a pieno titolo, un processo che richiede dai 5 ai 10 anni. Con il nuovo sistema diventa di centrale importanza il rispetto degli standard europei su stato di diritto e democrazia. Sono previste misure più incisive, compresa la sospensione dei negoziati, per sanzionare eventuali passi indietro dei paesi candidati nelle riforme fondamentali. L'importante, sottolinea l'eurodeputata dei Verdi Viola von Kramon, è che ci sia chiarezza nel processo decisionale. Il governo della Macedonia del Nord ha accolto positivamente la riforma. Se il Consiglio europeo di marzo darà il tanto atteso via libera all'avvio dei negoziati con Scopi e Tirana, le nuove misure saranno applicate da subito.